Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, quarta e ultima parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato alle biografie di Luigi Di Maio e Vittorio Sgarbi. Avevamo concluso il video precedente dicendo che in merito alla condanna di Sgarbi per diffamazione aggravata sulle indagini del pool antimafia di Palermo guidato da Giancarlo Caselli, alcuni hanno sostenuto che Sgarbi avrebbe semplicemente esercitato il suo diritto di critica. Tesi contestata da Marco Travaglio che afferma, aperte virgolette, criticare significa affermare che un'inchiesta è infondata, una sentenza è sbagliata. Ma sostenere che un PM e l'intera sua procura sono al servizio di un partito, agiscono per finalità politiche, usano la mafia contro lo Stato non è criticare e attribuire una serie di reati gravissimi, i più gravi che possa commettere un magistrato, chiuso le virgolette. Ecco prima di procedere vi ricordo come ho già fatto per gli altri video, tutti i dati sono presi dalla pagina italiana di Wikipedia, quindi se avete informazioni diverse andate pure a cambiare la pagina, fatemelo sapere, mi raccomando citate le fonti e io sarò ben lieto di aggiornare questo video. Se volete sostenere il canale potete farlo tramite la mia pagina Amazon dove trovate i miei libri, vi lascio un link nella descrizione di questo video. Il primo maggio del 2008, durante la puntata televisiva Anno Zero, Sgarbi si rivolge a Marco Travaglio con insulti molto pesanti, aperte virgolette, siamo un grande paese con un pezzo di merda come te. Il 10 dicembre del 2009 il Tribunale Civile di Torino condanna Sgarbi a 30.000 euro di risarcimento per ingiurie e al pagamento delle spese legali. Il giudice ha anche stabilito la pubblicazione della sentenza sulla Repubblica e la stampa. Il 6 ottobre del 2010 è stato nuovamente condannato al pagamento di 35.000 euro, avendo rimarcato, aperte virgolette, mi correggo, Travaglio non è un pezzo di merda, è una merda tutta intera, chiuso le virgolette, sulle colonne del quotidiano online La Voce d'Italia e due giorni dopo dagli studi di Domenica 5, il programma televisivo condotto da Barbara D'Urso. Nonostante la sopraggiunta prescrizione abbia cancellato il reato di diffamazione, il 26 maggio del 2010 Sgarbi è stato condannato dalla Corte d'Appello di Venezia al pagamento di 110.000 euro come risarcimento al procuratore aggiunto di Udine ed ex PM di Pordenone Raffaele Tito per averlo pesantemente diffamato nel 1997 nel corso di alcune puntate di Sgarbi quotidiani. Andate in onda su Canale 5. Ecco, Raffaele Tito è l'uomo che vedete in queste immagini. L'ammontare del risarcimento è stato ridotto di un quarto rispetto a quello stabilito in primo grado, in quanto per una delle trasmissioni incriminate Sgarbi è stato dichiarato non punibile. L'intero iter giudiziario è durato ben 13 anni, in quanto i legali di Sgarbi, dopo la condanna di primo grado a un anno e un mese di reclusione intervenuta nel 2001, avevano fatto ricorso alla Corte Costituzionale rilevando l'insindacabilità delle sue affermazioni, in quanto all'epoca il critico era parlamentare. Ma la consulta rispedì gli atti al Tribunale rigettando distanze e dando il via libera al processo. Con sentenza del 15 settembre del 2003 del Tribunale Civile di Roma, Sgarbi è stato condannato al pagamento di 30.000 euro più spese legali a favore del magistrato Gianfranco Amendola, che vediamo in questa immagine. Per le frasi ingiuriose pronunciate nel corso di una serata del Maurizio Costanzo Show nel 1993, quali, come da sentenza, incapace, ignorante, bugiardo, maiale. La causa di primo grado dura 10 anni, scanditi da intervenute modifiche di legge e da una sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato la delibera di insindacabilità a favore di Sgarbi adottata dalla Camera dei Deputati. Sentenza confermata nel 2009 dalla Corte d'Appello di Roma con condanna a ulteriori spese legali, passata successivamente in giudicato. Nel maggio del 2011 la Corte di Cassazione, con sentenza numero 10.214, conferma la condanna al risarcimento per danni da diffamazione a favore del PM milanese Ilda Boccassini, a carico di Sgarbi e del circuito televisivo Mediaset. La Suprema Corte respinge il ricorso con il quale Sgarbi e Mediaset sostenevano la liceità di alcune espressioni usate nella trasmissione Sgarbi Quotidiani, andata in onda il 16 febbraio del 1999, durante la quale la Boccassini veniva criticata in relazione all'inchiesta sul capo dei Jeep della capitale Renato Squillante. Sgarbi e Mediaset sono stati condannati a rifondere in solido il PM Boccassini con 25.822 euro. Nel 2011, a seguito di un'avvertenza che durava dal 1994, Sgarbi si accordò a versare 60.000 euro a tre ex PM del pool di Mani Pulite di Milano, Pier Camillo Davigo, Gerardo Colombo e Francesco Greco, per poi rifarsi sui giornali che avevano pubblicato le dichiarazioni, quindi Avvenire e Il Giornale, peraltro pronunciate e ripetute nel programma TV Sgarbi Quotidiani. La Cassazione ha invece adebitato nel 2015 al solo Sgarbi il risarcimento, obbligandolo a pagare tale somma ai tre diffamati. Sgarbi li aveva definiti assassini, in riferimento al suicidio in carcere di Gabriele Cagliari e quelli di altri indagati a piede libero come Raul Gardini e Sergio Moroni. Citiamo una delle frasi in questione, aperte virgolette, di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della gente, vanno processati e arrestati. È giusto che se ne vadano, nessuno li rimpiangerà. Vadano in chiesa a pregare per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna, Cagliari. Hanno tutte queste croci sulla coscienza. Ringrazio Dio che con questo decreto, il decreto Biondi, eviteranno essi stessi l'arresto per tutti gli assassini che hanno commesso. In seguito a un episodio in cui Vittorio Sgarbi avrebbe insultato quattro carabinieri e intimato al suo autista a non fermarsi di fronte al loro stop presso Expo 2015 a Milano, Sgarbi è stato condannato nel luglio del 2016 a versare 11.000 euro di risarcimento, 1.000 all'arma dei carabinieri e 10.000 ai quattro carabinieri. Bene, passiamo adesso alle prescrizioni. Il 7 aprile del 1995, durante la trasmissione Sgarbi quotidiani, Sgarbi legge una lettera sui, tra virgolette, veri colpevoli dell'assassinio di Don Pino Puglisi. Lettera priva di firma, ma da lui attribuita a un sedicente amico del sacerdote assassinato. La missiva accusava come mandante il procuratore Caselli e, secondo quanto riportato da Marco Travaglio, come killer Leuluca Orlando e Michele Santoro, intendendo quindi che tutti e tre erano i responsabili morali dell'omicidio, avendo fatto del sacerdote un, tra virgolette, sicuro bersaglio. La lettera riporta anche delle parole attribuite da essa a Don Puglisi stesso. Aperte virgolette. Fui più volte contattato da Caselli e dai suoi uomini. Pretendevano accuse, nomi, circostanze. Volevano che denunciassi la mia gente e i miei ragazzi, che rivelassi cose apprese in confessione. Caselli disprezza i siciliani. Mi vuole obbligare a rinnegare i miei voti e la mia veste. Pretende che mi prostituisca a lui. Più che nemico della mafia, è nemico della Sicilia. Orlando è un mafioso vestito da gesuita. Caselli ha fatto di me consapevolmente un sicuro bersaglio. Avrà raggiunto il suo scopo quando un prete impegnato nel sociale verrà ucciso. Caselli, per aumentare il suo potere, ha avuto la sua vittima illustre. Chiuse le virgolette. Per queste dichiarazioni Sgarbi è stato condannato per diffamazione in primo e secondo grado. Nel suo libro Un magistrato fuori legge, Caselli ha affermato che la Cassazione ha in seguito dichiarato la prescrizione del reato. Ma Sgarbi, tramite il suo avvocato, ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che la Cassazione ha invece annullato le precedenti sentenze, rimandando quindi il tutto a un nuovo giudizio, che però non c'è mai stato per l'intervenuta prescrizione. Passiamo adesso alle assoluzioni. Allora, vi è l'assoluzione nel processo per diffamazione dei giudici Franco Battaglino e Paolo Gengarelli di Rimini. Commentando la richiesta da parte dei due magistrati di acquisire le carte cliniche del fondatore di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, che vediamo in questa immagine, Sgarbi aveva detto, aperte virgolette, nessuna pietà per questi giudici. Per salvaguardare la dignità di piccoli uomini dovevano insultare un uomo che sta morendo. Mentalità di uomini di paese che si comportano come vigili urbani. Per quanto riguarda i procedimenti ancora in corso, a carico di Sgarbi, nel 2005 gli viene recapitato l'avviso di fine indagine per diffamazione nei confronti dello storico dell'arte Daniele Benati, presidente della sezione bolognese di Italia Nostra, nell'ambito della lite sulla mostra dal titolo Da Cimabue a Morandi, curata dallo stesso Sgarbi. Altro procedimento ancora in corso è quello che lo vede condannato in primo grado a una multa di 20.000 euro e al risarcimento di 20.000 euro per aver accusato di incompetenza e plagio il critico d'arte Italo Tommasoni, che vediamo in queste immagini. Bene, concludiamo con l'atteggiamento di Sgarbi nei confronti della fede, quindi si è definito talvolta ateo, talvolta fiero di essere cattolico. Nel novembre del 2009, durante la trasmissione Pomeriggio 5, ha attaccato la tesoriera dell'U.A.A.R., quindi l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, definendola ignorante come una capra. Nel gennaio 2010, durante la trasmissione La vita in diretta, ha rivolto altri attacchi all'U.A.A.R., accusando tale associazione di essere un'associazione di zucche vuote e mettendo in dubbio la legittimità dell'esistenza delle associazioni atee. Molto bene, abbiamo così concluso questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato alle biografie di Luigi Di Maglio e Vittorio Sgarbi, che per ovvi motivi hanno visto uno spazio maggiore attribuito a quella di Vittorio Sgarbi. Spero che vi siano state utili, fatemi sapere cosa ne pensate e come sempre se volete sostenere il mio canale andate a dare un'occhiata alla mia pagina Amazon dove trovate i miei libri e vi lascio un link nella descrizione di questo video. Bene, ciao a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!